Consulenza 2020 siamo con Angelo Dejana, professore, presidente di Conf Associazioni e l'altro che mi diceva? Di Ampib, Associazione Nazionale Private Investment Bankers. Perfetto, uno dei massimi esperti di problemi del paese, mi diceva prima di andare in onda. No, scherzi a parte. Dato che siamo nel regno dei consulenti finanziari, comunque questa tre giorni organizzata da Anasf è dedicata principalmente a loro, c'è un problema che è atavico un po', che è stato evidenziato da molti, che è quello della previdenza. È un paese che invecchia e fa ben poche cose per pensare a quello che è il suo futuro da questo punto di vista, dal punto di vista del risparmio. Lei cosa ne pensa? Questo è un paese che ha e che avrà dei grandi problemi da questo punto di vista. Noi non facciamo figli, quindi siamo in quello che potremmo chiamare l'inverno demografico. Il tasso di sostituzione è 2,1 e noi invece facciamo 1,34 figli a famiglia, considerando che noi in realtà ne facciamo 1,21 se non avessimo le famiglie degli immigrati che ci portano a 1,34. Quindi tendenzialmente abbiamo due grandi problemi. A. Non facciamo figli. B. Abbiamo un'aspettativa di vita che aumenta. C. Il problema vero è che in realtà, diciamo così, il sistema ripartizione su cui è basato il nostro primo pilastro, cioè la pensione pubblica, funziona quando il numero degli occupati è maggiore del numero dei non occupati. E fra i non occupati chi ci sta? Tutti coloro che non lavorano, quindi bambini, adolescenti, pensionati e non occupati. Quindi anche l'alta percentuale di disoccupazione che noi abbiamo, sia giovanile che come tasso complessivo, incide su questo problema. E questo significa che tutte le gestioni, nonostante con la riforma di INI e poi con le ulteriori riforme sia Maroni che Fornero, siamo totalmente ormai sul contributivo, i contributi non bastano più. Noi abbiamo un gap anno di circa 23 miliardi di euro che è già coperto dalla fiscalità generale. Piano piano, con, chiamiamola così, questa curva di tendenza, rischiamo che la quota a carico della fiscalità generale sia sempre più grande. Ora, questo non vuol dire che le pensioni non esisteranno più. Soltanto che le dovremmo pagare tutti quanti col sistema delle tasse. Problema chiarissimo. Soluzione? Difficilissima. È come scalare l'Everest senza ossigeno. Diciamo che le soluzioni sarebbero, primo, incentivare la maternità. Noi abbiamo una disincentivazione di genere in accesso al mercato del lavoro perché il 33%, una cosa nessuno dice, è che il 33% di una donna che va in maternità è a carico del datore di lavoro. Tutti pensiamo che la maternità sia tutta a carico dello Stato e invece fra tredicesima, ad esempio, costi di sostituzione e costi vari, sostanzialmente il 33% è sempre a carico del datore di lavoro. E questo significa che se uno fa un discorso cinico e opportunistico, in entrata, assume più uomini che donne. Due. Questo, come ha detto lei, è un discorso cinico opportunistico, non particolarmente bello come discorso. Non è bello, non è bello. Anche perché anche qui a Consulenza si fa tanto parlare anche qui di parità di genere, eccetera, eccetera, e poi arrivano questi discorsi. Questa è la realtà di questo Paese. Consideri che in questo Paese lavorano 49, 48,8 donne ogni 100, perché molte lavorano in nero, perché quello è l'altro grande problema, l'evasione non solo fiscale ma anche quella previdenziale, che si somma. Evasione fiscale più evasione previdenziale vuol dire ancora meno contributi al sistema pensionistico. Ma dice Banca Italia che se il tasso di occupazione femminile salisse a 60 su 100, noi guadagneremo 17 miliardi di euro, quindi un punto di pilli in più, all'anno. Ci vuole un investimento. Quel 33% che cuba all'incirca 10 miliardi di euro all'anno dovrebbe essere messo a carico della fiscalità generale. Quindi facendo sì che le donne siano tranquille quando devono fare un figlio, anche se il problema fondamentale è che noi siamo fondamentalmente, ma il numero degli aderenti a consulenze lo dimostra un Paese ricco. Noi siamo la terza ricchezza privata netta del mondo e la ricchezza è il più grande anticoncezionale che esista. C'è un unico Paese che è industrializzato che sfugge a questa regola, che sono gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno le fasce, quella atlantica e quella pacifiche, sono ricchissime. La California sarebbe il sesto Paese più ricco del mondo in termini di pill. E invece hanno però gli Stati centrali che hanno un reddito medio in realtà molto basso rispetto alla media degli Stati Uniti e soprattutto sono Paesi a prevalenza agricola, quindi hanno bisogno ancora di braccia e quindi fanno tanti figli. Ma è l'unico Paese industrializzato che sfugge alla regola dell'inversione della natalità. E quindi da questo punto di vista noi che cosa possiamo ancora fare? Provare a capire se in un futuro il secondo pilastro, quindi il sistema previdenziale integrativo, riesca a compensare un pezzo di quel primo. Tridico ha tirato recentemente fuori questo nuovo progetto di fondo previdenziale pubblico dell'Inps in cui teoricamente far confluire un pezzo dei fondi pensioni già esistenti, anche per dargli effetti di maggiore moltiplicazione sull'economia reale. Consideriamo che in questo momento il sistema dei fondi pensioni gestisce circa 217 miliardi di euro. Lui ne vuole fare uno da 200, quindi più o meno andrà a mangiare. Però anche lì il problema è che se non si fanno figli la curva scenderà. Poi in un'ottica futura dopo il 2050, quando fra virgolette i baby boomers non saranno più tra noi ma saranno in posti migliori, probabilmente la curva migliorerà. Però il problema è inverno demografico, inferno previdenziale. Senta, io 35 anni, non ho figli. Mettiamo che non ne voglia fare qualcosa, però la devo fare dal punto di vista previdenziale. Costruire in parallelo al primo pilastro un secondo pilastro che abbia un ragionamento di lunghissimo periodo. Quindi 35 anni vuol dire almeno 30 anni, ulteriori 30 anni di contributi continui, modello PAC, diciamo, e cercare, ma questo è un mio parere personale e quindi non impatta agli investimenti che fanno tutti gli altri, cercare secondo me un portafoglio sfidante. Che non è detto che sia un portafoglio per forza tarato su percentuali di equiti eccessivamente elevate rispetto al profilo di un rischio di ciascuno di noi. Però cercare dei fondi che al limite hanno un portafoglio barbell, cioè hanno un 80% che in questo momento, e considerando il livello dei tassi zero nel lungo periodo, abbiano dei rendimenti quantomeno non negativi. E invece sfidarsi su quel 15-20% con qualcosa di molto più rischioso, ma che nel lungo periodo tende a dare più rendimento. Tutti gli indici che noi vediamo, per esempio in questo momento, ci dicono che a parte qualche, diciamo così, cattivo incidente di percorso e momento sbagliato di primo investimento, l'equiti nel lungo periodo dà tanti risultati ed è per questo che gli americani sono così bullish, non perché in assoluto gli piacciono tutte queste azioni, perché in realtà loro, dovendosi creare da subito una posizione previdenziale di lungo periodo, non esistendo il primo pilastro, tendono a fare un asset allocation che evidentemente stressa l'equiti per avere più rendimento quando andranno in pensione. Grazie Angelo Dejana per essere con noi, grazie mille.